La Flores Multimedia, Mauro Ciutini, ultimo aggiornamento di oggi, traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Ricordo sul raccordo Siena-Firenze, c'è uno scambio di carreggiata tra lo svincolo Firenze-Impruneta e San Casciano Nord, la direzione è quella per Siena. Passiamo alla statale Aurelia, un senso unico alternato per lavori tra l'incrocio variante di Quercianella e l'incrocio di Ortonovo. Traffico lento anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e l'allacciamento con la 1 direzione Firenze. E proprio a Firenze il traffico è ancora intenso sui viali in entrata ed in uscita dalla città. Chiudiamo con il tempo previsto dal Consorzio Lamma per domani in Toscana, nuvolosità irregolare, rovesci o locali temporali possibili da fine mattina e soprattutto nel pomeriggio. Muoversi in Toscana in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Buona serata domani.